Il liceo Mazzini di Genova è una scuola che è stata assegnata profondamente dal crollo del Ponte Morandi ma ho trovato un ambiente di docenti e di insegnanti, di presidi e di studenti vivacissimi molto desiderosi di apprendere e di imparare. A parte l'ascolto della mia lezione è stato un intensissimo scambio sulle tematiche che a partire dalla riflessione sul rispetto della legge e rispetto della dignità umana i ragazzi hanno maturato nel corso della mattinata. Domande bellissime sulla libertà, sul significato della legge, sui social, sulla situazione attuale che denotano ragazzi desiderosi di capire, desiderosi di crescere, perciò un accrescimento anche per me.